Grazie a tutti e a tutti, e oggi è stato benvenuto a Combo Ruzzè di Internegar 1, un ovino che l'Antonin per voi ne fuga in l'urrezza e ne prende mai dei datzoni, e se due il nostro rezzio è un uccitaneo sull'idea che è per chi con. Andiamo a vedere una creazione di musico contemporaneo che sarà donato la settimana che viene di l'encastro del Festival d'Uccitaneo, anche dei texti di Pai Regudoli e Gian Giaurez, ma sperarò che vi torna a trovare un altro uomo che è morto a Combo Ruzzè, Jordi Passerrat, per parlare di quel mondo che faccia avanzare l'idea d'Uccitaneo. Ero Jordi sempre venuto a Combo Ruzzè perché per voi è la nuova capitale d'Uccitaneo, per di che? Perché per voi che si sta regendo da quel villaggio di Gascugno, è un carcinol che è venuto qui, è che ha scoperto qui è la lingua, la cultura popolare o rara, le tradizioni, ma anche ha compostato di l'escola, qui è la prima grande roba, l'Uccitaneo. E l'Uccitaneo è il primo copo che si è spedato un copo l'Uccitaneo, e l'andarriere la nozione d'Uccitaneo. Davanti a lui c'è anche l'appellazione Occitaneo che apparece al segle XIII a più presto per l'administracio reale. A la fine del segretario, quando si è venuto francesi, era tal che si disegnavano tutti i paesi del sud, abans si appellavano provinciali o provinciali, e qui l'appellavano la lingua d'Occ. E l'Unione era perduta e torna a te speli, un po' a un momento del romantismo e della rivoluzione. E c'è un poeta, l'Uccitaneo, che fa l'ode a Occitaneo. E c'è un poeta, l'Uccitaneo, che fa l'ode a Occitaneo. Di l'adraio di Per Bosch, c'è anche l'organismo che nasce sui del mondo, e che butto a parlare dell'Uccitaneo e dell'Uccitaneo a Toulouse. A partir dell'academia Joffrurals, abbiamo dei felibri come Rosas de Bruzzo, Prosper Estivo, Antonin Per Bosch, che si va mettere in place, justamente, a quel movimento di scuberti della lingua, di insegnamento, di giornalismo, anche in Caldini, e l'escola occitaneo, 1919, l'Uccitaneo, 1927, e va insegnare la lingua, la graffia, a me un nome, che si chiama Josep Salvat, che è stato verta di nomeno, lo benaire della battista occitana, dintro l'Uccitaneo e dintro l'Uccitaneo, dintro l'Uccitaneo e dintro l'Uccitaneo. Tutti un d'internegaruno, un altro nome e personaggio celebre, l'Ufélix Castan. L'uomo che fa con i C'è per Bosch, si chiama Félix Castan, che è di Montalbà a creare l'Uccitaneo a Montalbà, e è un nome che va far descobrir l'idea d'Occitaneo pensato di look-up di per Bosch, e aci va cercar così per Bosch, minuosamente, è arrivato a creare l'Undo Occitaneo e Castan è più importante per l'Uccitaneo. E se volerà descobrir un altro aspecte d'Antoni per Bosch, le edizioni Lettros d'Occ veneno d'editar, tornare, le fabelze caiole, e per ora vos preparatevi di spepissa d'autres actualità occitanos. A l'entorno di René Sum e Joan Beccat, l'associazione Ciutadano per l'Uccitaneo Paese Català ha deposato un ricur al Consiglio d'Estat contro l'Unione Nouvelle della Rizio di Panèos Paese Català, submetuti di per tutto. L'Ofestenale Bendemios d'Occ creazione e musico contemporaneo, anche la lingua nostra, per subrepassare l'Urmuz ad un'orchestra reducita e decantaire. Un, due... ci sono anche per stimolare questa creazione e ci spiega che la lingua occitana è una cosa vivante. perché, perché, ovviamente, è lei che farà niente qualcosa. di l'amendere grana che fremisce di un laure sapresto per demà lo ricco noi rimane... Un'istoria in tresta pleu, l'allegrio di la città, la paz menassato, finza la guerra e lo desir di paz, un'oguero previsto e escritto per Giaurès in proso francese. Mi ha calgut sento qua al senso e volevo, per, per, magnificarlo, lo senso. Dunque, mi ha calgut tornar, volevo formar, formatà, se vuoi, in termini poetici, perché si oggen a qui mesos e musica. Alla trumato s'ajusto, alla trumato. Un'obra di una parte instrumenti e buzzi, un altro electroacustico che usano, e la trezana che mescla tutto, paz e la città, è una creazione completa. La musica, oggi, è una pluralità di domani, che un compositeur può se promenare da un domani a l'altro, e ci sembrava molto interessante, d'autant più interessante, di mettere questo in line con una tradizione culturale, una tradizione linguistica. Contrario a ciò che pensano, in generale, o ciò che il pubblico può pensare, della creazione contemporanea, non è una musica imbarata, ma che si dublisca a tutta forma di sonorità e di acerco musicale. di Wey. La serata di Dimar sarà dedicata alla paz in Serio, uno serato e al Plessì. e al Plessì. E al Plessì. E al Plessì. a tutti. E al Plessì. a tutti.